Misurare le travi del tetto può essere pericoloso, soprattutto in condizioni di pioggia e gelo. Ma grazie alla tecnologia Point-to-Point del disto X4 di Leica Geosystems puoi eseguire questa operazione in tutta sicurezza. Non occorrono scale o assistenti, perché la misurazione avviene comodamente da terra. Basta impostare il treppiede e montare l'adattatore DST360 e il disto X4. Poi accendi lo strumento, accedi al menu delle funzioni e seleziona la funzione Point-to-Point. Ora devi semplicemente rilevare due punti per misurare la lunghezza delle travi e l'inclinazione del tetto. Se vuoi, puoi anche ingrandire il punto. Ora i dati sono memorizzati nel disto X4 e possono essere visualizzati ed elaborati in qualsiasi momento. La misurazione Point-to-Point è semplice e veloce con il disto X4. Ed altrettanto semplicemente si possono calcolare le dimensioni della superficie obliqua di un tetto. Maggiori informazioni sono disponibili online.